Grazie per aver resistito fino adesso, cercherò di metterci meno dei 15 minuti che mi sono stati assegnati, non spaventatevi da questa slide, Asso Rinnovabile è la più grande, due parole di presentazione, la più grande associazione italiana di produttori di energia da fonte rinnovabile, è una delle più grandi europee, più di 500 soci, 11.000 megawatt installate in Italia e le aziende associate, se comprendiamo anche l'installato estero, arrivano oltre 22.000 megawatt. Facciamo quello che normalmente viene fatto, rappresentanza istituzionale, assistenza agli associati e in genere la promozione della cultura della green economy. Abbiamo presentato prima delle elezioni europee, abbiamo chiesto ai partiti 5 di aderire a un programma che si basava su 5 punti fondamentali. Gli obiettivi al 2030, il mercato elettrico europeo e l'integrazione delle rinnovabili, la generazione distribuita, la sostenibilità ambientale e non a azioni retroattive. Ovviamente, parlando per ultimo, salterò molti dettagli che avrei potuto darvi, perché sono in realtà stati già in modo importante e chiaro anticipati. Quindi in qualche modo penso che questa veloce carrellata sia anche un'occasione di riassunto. il primo punto, gli obiettivi europei al 2030. È molto importante avere una chiarezza prospettica al 2030. Quando oggi si va a parlare di questioni al 2020, in sede europea Bruxelles ci dicono che è inutile, siete solo voi e altri due Paesi che venite ancora a parlare al 2020. Noi stiamo ragionando su quello che dobbiamo fare al 2030. Quindi questo aiuta, credo, anche gli operatori e il nostro Paese a definire un time frame sufficientemente lungo perché le aziende e l'industria possano adeguarsi. Ovviamente è fare programmi importanti. Ovviamente, rispetto a quello che abbiamo già raggiunto, per noi è importante definire obiettivi di efficienza energetica, di quote di energia rinnovabile prodotta e di riduzione di CO2. Quindi, rispetto a altre posizioni, noi crediamo sia importante, diciamo, la definizione di questi tre. Qui abbiamo quello che noi auguriamo che venga deciso. Questi obiettivi del 2030 hanno poi, su una scheda, lo richiamerò, successiva, un riferimento a mio parere molto importante. Anche qui, l'ha detto prima il Professor Beccarello, credo che certamente anche noi siamo d'accordo che ci siano due integrazioni fondamentali su cui dobbiamo lavorare. Uno è il mercato elettrico italiano rispetto a quello europeo e, dall'altra parte, ovviamente anche su quello italiano tra produttori di energia rinnovabile e non, ma questo ovviamente deve essere fatto in un'ottica di mercato e di ottimizzazione e quindi, diciamo, dietro la semplicità degli argomenti, ovviamente si, come dicono, il dettaglio, il diavolo e nei dettagli ci sono degli aspetti molto importanti, ma che anche produttori di energia rinnovabili vogliono affrontare, perché è fondamentale che la rete e il sistema funzionino bene, funzionino per tutti. La generazione distribuita, e qui si inseriscono, l'abbiamo sentito, anche i SEU e i RIO, è un elemento molto importante. È un elemento molto importante perché è uno dei settori in cui possono crescere le rinnovabili, ma soprattutto è uno di quei settori che io, in qualche modo, equiparo al telefonino rispetto al fisso. Cioè, dobbiamo fare attenzione perché se poi il costo, diciamo, del telefono fisso è troppo alto, e sarà successo, molte volte anche voi, la notizia è che uno disdice il telefono fisso e si tiene solo più il telefonino. In realtà ci sono delle opportunità a avere, come dire, un doppino in casa, poi c'è il Wi-Fi, c'è la possibilità dello streaming adesso, eccetera. Quindi è comunque molto importante che le due cose convivano, ma per farle convivere non si può, noi riteniamo, bloccare troppo la crescita dell'energia della generazione distribuita, perché se no abbiamo poi una situazione in cui improvvisamente la tecnologia comunque andrà avanti, indipendentemente da quello che vogliamo fare in Italia, e succederà poi un disastro. Quindi c'è una grande opportunità, dobbiamo gestirla seriamente e non ritardarla in modo improprio. L'autorità ci ha messo cinque anni a definire, come dire, un'interpretazione di una direttiva e ancora ci sono molte cose che non vanno. E qui arrivo agli obiettivi del 2030, la sostenibilità ambientale dei prodotti. Noi crediamo che questo, sufficientemente complicato, sono due slide, ma provo a spiegarla. Noi, diciamo, in Europa abbiamo spinto più degli altri nella riduzione della CO2. Questo è molto importante, abbiamo dato un esempio, abbiamo creato anche il mercato delle TS, che non funziona, perché la tonnellata di CO2 è sotto i 5 euro, quindi evidentemente qualcosa non va. però abbiamo, e lo vediamo di tutti i punti, credo che questo grafico, e prendiamone solo in questo momento, diciamo la sensazione. Vedete che tonnellate di CO2 per valore aggiunto, se volete, per mediamente un'unità di prodotto costruita in Europa è un terzo in meno dell'America, è un settimo, della Cina è molto di più, un decimo dell'India. Quindi noi in realtà produciamo in modo molto più pulito, per dirla sintetica, i prodotti che tutti gli altri paesi, come diciamo media europea rispetto alle medie dei paesi considerati. Quindi dobbiamo in qualche modo, senza violare le regole sul commercio internazionale e quant'altro, ma dare un premio a questi prodotti. Credo che questo sia anche un modo per mettere insieme, diciamo, quelli della green economy con le industrie italiane e europee. Ci sono gli strumenti per farlo, lo dobbiamo fare, è complesso, ma sono sicuro che il sottosegretario Velo raccoglierà, diciamo, questa sfida che a mio parere può essere vincente sia per i contenuti del semestre italiano e europeo, sia per, diciamo, l'innovazione e la capacità di focalizzare che comunque noi italiani ancora abbiamo. Qui c'è tutta una parte di maggior dettaglio sulla delega fiscale, l'articolo 15, che è salto, ma, diciamo, sottolineo l'importanza rivoluzionaria di andare in questa direzione, che ci permetterebbe non di penalizzare i nostri prodotti, le nostre industrie, favorendone la delocalizzazione, ma al contrario di valorizzare, o meglio, di penalizzare i produttori che hanno un impatto ambientale molto maggiore. No, investimenti a interventi retroattivi, l'abbiamo detto, sono, diciamo, positivo, spero, come dire, non essere smentito, ma, o che i fatti mi smentiscano nei prossimi giorni, ma credo che il tavolo che abbiamo aperto seriamente con il Governo su, diciamo, soluzioni alternative, in parte di tipo, diciamo, finanziario, ma che permettono di fatto una diluizione degli incentivi in modo efficiente rispetto al per lievo sulle bollette e, dall'altra parte, diciamo, di attivare dei meccanismi che permettano, diciamo, una riduzione del costo dell'incentivo a fronte di una efficienza o di una semplificazione burocratica, possano essere, diciamo, soluzioni che si possano attuare e che quindi siano alternative e per sempre a, diciamo, azioni di tipo retroattivo, ancor più rispetto alla fiducia, seppur, come dire, virtuale per il Governo italiano, ma diciamo che c'è stata nel voto europeo. Quindi io sono convinto che ce la possiamo fare con un po' di buona volontà. Qui ci sono, diciamo, altri otto punti che possono aiutare a migliorare il sistema complessivo e quindi ridurre il costo finale dell'energia. Non entro in questi punti, ma sono punti che sono in discussione e mi posso dire che, ripeto, il tavolo è molto serio e sono convinto che, come dire, non siano colloqui o lavori strumentali. Grazie. Grazie.